Io ci credo molto, è un momento nel quale davvero i dati economici finalmente dopo tre anni invertono il segno, il meno diventa più, un po' in tutti gli indicatori, nella produzione industriale, nell'occupazione, nel PIL, nel turismo, ma anche e soprattutto nella presenza dei musei, nel numero di biblioteche e io credo che questo sia un punto molto molto importante per il nostro futuro. Allora, caro Dario, signor Ministro, cari tutti voi, credo che siamo di fronte a una grande sfida, che non è soltanto quella di far funzionare meglio i nostri musei, certo anche questa, ma è quella di restituire all'Italia l'orgoglio e la consapevolezza di essere l'Italia, l'orgoglio e la consapevolezza di essere un paese che non si piange addosso, ma che se fa il proprio mestiere, se adempie al suo compito, è nelle condizioni di essere un punto di riferimento per i propri ideali, per i propri valori, per la propria qualità anche a livello europeo e Dio solo sa quanto abbiamo bisogno in questo momento di ritrovare degli ideali e dei valori anche a livello europeo. In bocca al lupo.